Ok, partenza regolare per questa prima batteria, senior femmine, sempre quarto in finale, sempre due a qualificarsi le prime due per la semi, ma anche in loro il tempo conta per le qualifiche. E andiamo ragazzi con la conclusione di questa prima batteria con l'atleta 757 Gatti Melissa che chiude in prima pacchetta senza regolare questa seconda batteria. Ok, partenza regolare per questa prima batteria. 838 Saroni e Sofia che si qualifica per le semifinali. Ok, partenza regolare per questa terza batteria che si concluderà con due qualifiche per la semifinale di questi senior femmine. Siamo alla penultima batteria. E andiamo a concludere questa terza batteria con le treze molto vicine a contendersi la semifinale. e poiché non ho capito... Ok, partenza regolare per questa ultima batteria, senior femmine. Sempre come prima, come per tutte le altre batterie si qualificano le prime due, ma il tempo conta per la qualifica gli italiani. E abbiamo ultima turno, ultimi 30 metri, due trete, imparata! Bravissime ragazzi! E' la sette...